Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800-039-036 per avere un trattamento privilegiato 800-039-036 This is the voice of your night Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM Let's begin Ascoltatori abbiamo un ospite, un inedito, un talento, un cantante, cantautore che ci viene a trovare E' bello fare scoprire anche inediti Guarda che forza che c'è Come stai? Bene Claudio? Bene, bene, buonanotte Claudio, allora mi hanno comunicato che tu non hai un cognome, vero? Darte Te lo vuoi dare? Claudio Te ne do alcuni Claudio Scotti Claudio Esposito Nome e cognome Claudio Esposito? Se no c'era anche Claudio Colantoni, magari Claudio Bampi Claudio Esposito? Claudio Esposito Che ci canta Non più Dillo te, cosa è successo? No, è cambiato il titolo dell'inedito perché depositando il brano alla SIAE mi hanno detto che Francesca era un nome troppo comune quindi e penso a Francesca il titolo ufficiale Perfetto, abbiamo cambiato il titolo perché adesso la SIAE Come si permette la SIAE di cambiare il titolo di un cantanteutore? La SIAE può farlo Eh, la SIAE può farlo Società italiana, autori ed editori Eh Perché? Perché? Perché ci hanno il potere Tra l'altro devi compilare il bordero del matrimonio Io li compilo sempre i bordero Eh, compilalo dai Vabbè La cosa che ama di più Un cantante, un DJ compilare il bordero della SIAEE Sempre così, guarda Fine serata quando uno non ce la fa più per il bordero Luna e 33 Adesso Claudio ci canta in diretta Ce ne stiamo affezionando, eh Soprattutto adesso che ha cambiato titolo Oramai io la canto anche Certo, poi uno cambia il nome della donna Però Si intitola E penso a Francesca Lo presentiamo come talento della notte romana Ce la canta in diretta Radio Radio by Night Roma Radio by Night Roma Presenta il nuovo talento della notte romana Scorrono lenti i miei pensieri Ricordi belli di un amore Se era vera un'illusione È il tempo a stabilire Ma la paura di sbagliare È troppo forte nel tuo cuore E rifare un nuovo errore Lo sai che può far male E cammini Nelle strade della vita Tra un bivio e una salita Non si arriva proprio mai E ora ascolti Tra milioni di parole Quella che viene da un cuore Che tra un battito e un levare Ti aspetterà Ora che è tempo di sperare Aprire le ali per volare Non si può cambiare il mondo Ma si può affrontare un sogno E ora osservo un po' impotente Il tuo allontanarti dal tuo cuore Un frastuono nella mente Io ti chiedo di restare Ancora un po' impotente Ancora un po' impotente E cammini Ti aspetterà E francesca Ora vai non ti voltare Ma se un giorno guardi il cielo C'è una stella che ora brilla E pensa a te E pensa a te E pensa a te L'1.36 Claudio Da oggi anche Esposito Che ci canta in diretta Il programma della notte By Night Roma Radio Radio By Night Roma 104.5 Grazie a tutti